A tutti voi una cordiale buona serata, bentrovati con una nuova puntata di Sanità Benessere Oggi. Avete letto nel titolo Speciale Estetica e Mente, le stagioni del benessere, estate, scopriamoci con cura. E scopriamo innanzitutto la nostra ospite di questa sera, Silvia Testoni, estetista. Bentornata Silvia. Grazie. Questa sera dunque ci dedichiamo all'estate, a questa bella stagione che non vediamo l'ora, che sia insomma la stagione che ci fa divertire, che ci fa star bene, che ci fa sorridere e soprattutto che ci fa scoprire il corpo. E allora, intanto facciamo una piccola introduzione sul perché estetica e mente. Chi ci segue già, magari nelle scorse puntate, avrà avuto modo di capire il perché di questo nome che hai dato alla tua attività, ma è proprio qui il cuore di tutti i discorsi che poi facciamo. Cioè, una armonia tra lo star bene con se stessi dentro e fuori, una filosofia di vita che poi ci porta anche all'accettazione, allo star bene insieme agli altri. Esatto. E forse in estate stiamo anche di più con gli altri, quindi ci piacerà ancora di più star bene dentro e star bene fuori. E allora, d'estate sicuramente il corpo è il protagonista delle giornate, quindi come prenderci cura del nostro corpo. Esatto. Allora, direi che prima di tutto per prenderci cura del nostro corpo dobbiamo anche prenderci cura e pensare alla nostra pelle. Ed estate, come dicevamo, purtroppo, per fortuna anzi, ci scopriamo di più e scopriamo spesso il nostro corpo. E il sole è uno dei fattori purtroppo incriminanti che riguarda praticamente l'invecchiamento cutaneo. Quindi è importantissimo, secondo me, in questa puntata parlare proprio delle protezioni solari. E allora, sicuramente a casa hanno già carta e penna per prendere gli appunti giusti e prepararci davvero a affrontare la stagione estiva al mare, magari non solo il mare, perché appunto parleremo di tutte le altre possibilità di ricevere l'abbronzatura dal sole. Ecco, creme solari, prima di tutto, sono il nostro cruccio, sono il nostro pensiero, soprattutto noi donne, prendere la crema giusta, usarla bene. Allora, accompagnaci un po' in questo percorso. Allora, innanzitutto, secondo me, è importante parlare del fatto appunto che noi veniamo colpiti 365 giorni all'anno da quelli che sono i raggi ultravioletti. Ce ne sono dei diversi tipi, ma quelli che interessano a noi e che ci colpiscono sono i raggi UVA e i raggi UVB. I raggi UVA sono in realtà quei raggi che noi non ci accorgiamo neanche che esistono, ma che sono quelli che colpiscono in profondità la nostra pelle. Quindi sono anche quelli che sono responsabili, purtroppo, dell'invecchiamento cutaneo, quindi quelli che vanno a, diciamo, rompere le nostre fibre al collagene che ci portano a disidratazione. I raggi UVA sono gli stessi anche che ci colpiscono durante tutto l'inverno, perché anche nelle giornate, ad esempio, di nuvolo o di pioggia, appunto, i raggi UVA esistono e ci colpiscono lo stesso. Perché il sole c'è sempre. Esatto, anche sotto le nuvole il sole c'è. Esatto. Invece i raggi UVB sono quelli che in realtà noi percepiamo di più, quindi sono quelli che in realtà sentiamo proprio bruciare sulla pelle, sono quelli che ci provocano le scottature e gli eritemi solari. Quindi è importantissimo che nei nostri prodotti solari che noi andiamo ad acquistare è molto, molto importante che ci sia scritto che ci protegge sia dai raggi UVB che dai raggi UVA. Ecco, questa attenzione all'esposizione solare, ovviamente, tanto per gli adulti quanto per i bambini, spesso la scelta del filtro di queste creme diventa davvero il nostro punto interrogativo più grande. E quindi magari per i bambini si pensa alla 50, ma per gli adulti dipende dal fototipo. Oggi vogliamo sfatare un po', non dico un mito, ma una falsa credenza, cioè che più c'è filtro e più mi proteggo. Qual è invece il motivo di cambiare filtro, cioè passare da un 15 a un 30 a un 50? Certo. Allora, intanto per me è importantissimo sempre comunque proteggersi e per me è importantissimo proteggersi possibilmente sempre con il filtro 50, ok? Il filtro 50 non è vero che col 50 non ci abbronziamo, anzi, perché in realtà il filtro 50 ci protegge semplicemente dall'eritema solare, quindi dall'irritazione e da scottatura, per un determinato periodo di tempo. Non vi sto a spiegare qual è il calcolo che bisogna fare per capire esattamente quanto tempo ti protegge, ma vi posso dire, ad esempio, che il filtro 50 ci protegge circa otto ore al giorno. Quindi Silvia, fammi capire bene, perché questa cosa è davvero interessante. Vedere scritto 15 30 50 significa in realtà che quel 50 mi dura addosso di più di un 30, non che mi protegga di più di un 30. Sì, esattamente. Cioè, sia il 20 che il 30 che il 50 ci protegge alla stessa maniera. L'unica cosa che cambia è proprio il tempo che dura la protezione solare che mettiamo sulla nostra pelle. Bellissimo, questa secondo me è un'informazione che, come lo accolgo per la prima volta io, credo che anche a casa sia una new entry. E quando vedo quel 50 più, molto spesso? Allora, il 50 più, molto spesso, sta a significare che se io, ad esempio, mi applico la protezione sulla pelle, poi dopo qualche minuto la riapplico, in poche parole la protezione solare viene aggiunta della metà della protezione che c'è scritto sul barattolo. Il tempo, se prima era 8 ore adesso diventa 10. Esatto, e in poche parole poi creo anche uno strato un pochettino più spesso. Quindi sicuramente se ci sono delle problematiche importanti per cui va protetta la pelle magari più di altre persone, la 50 più potrebbe aiutare. Quindi anche nel caso, ad esempio, dei bambini che vogliamo chiaramente e giustamente proteggerli di più di quello che magari già ci siamo protetti noi. Penso sempre che la pelle di un bambino sia più delicata, però a questo punto mi viene anche da pensare che la differenza realmente non c'è tra una crema per bambini e una crema per adulti, perché comunque, insomma, il lavoro che la crema fa è il medesimo. Assolutamente sì, quindi assolutamente. Io ad esempio ho sempre utilizzato i miei prodotti solari, quelli che vendo anche in negozio, per me stessa e anche per i miei bambini senza nessun tipo di problema. Solo in alcuni casi, diciamo, magari dove ci sono dei problemi di allergie, dove magari c'è proprio un neonato che magari va tenuto un pochettino più preservato a livello di pelle, allora magari in quel caso lì affidarsi a proprio delle protezioni che siano nate specifiche proprio per il bambino, forse quello è il caso, diciamo. Però diciamo sono casi particolari. Sono casi particolari. Nella normalità dell'esposizione solare, quindi bimbi che giocano al sole, bimbi che sono continuamente in acqua, ecco che dare la stessa crema che usiamo per noi può andare bene. Assolutamente sì. E soprattutto perché alcuni tipi di crema sceglierla bene perché deve persistere anche appunto in acqua. Esatto. Fondamentale anche questo, secondo me, io utilizzo e vendo prodotti solari che comunque sono idrorepellenti, quindi che comunque durano assolutamente in acqua. anche perché in effetti in acqua molto spesso sia per il discorso del riverbero, sia perché la pelle è più esposta, in ogni caso è più facile che ci scottiamo. Un mio consiglio però è questo, in ogni caso. I tuoi consigli qui in questo caso sono preziosissimi. Il mio consiglio è sempre quello comunque di, una volta usciti dall'acqua, eventualmente ci si asciuga anche al sole senza nessun tipo di problema, magari riapplichiamoci la crema, perché comunque il mare sappiamo che è salino e quindi è un'acqua un pochettino più, diciamo, aggressiva rispetto all'acqua normale del rubinetto. Quindi comunque magari una seconda riapplicazione dopo l'uscita dall'acqua, secondo me soprattutto sui bambini o nelle zone più delicate. Viso, decoltè, spalle, le orecchie. È vero. Uno non ci pensa mai. Invece sono subito colpite dal sole le orecchie. Sì, soprattutto negli uomini che chiaramente sono scoperte il più delle volte, sono quelle che si bruciano per prime. È vero, quindi questi piccoli consigli sono dei grandi consigli, perché evitare il rossore, il prurito e l'infiammazione della pelle è tutto un guadagno. E anche i piedi, se ci pensi. È vero. Molto spesso anche da vestiti, perché i piedi restano scoperti, quindi i poverini continuano a ricevere il sole tutto il giorno. Anche perché, appunto, come abbiamo detto, a volte si dice ma non metto la crema, sto all'ombra. No, non è vero. Si dice lo stesso, perché viene comunque colpito dai raggi UVA e comunque c'è sempre anche il riverbero. Cioè, quindi, soprattutto d'estate, che magari d'inverno c'è meno riverbero, giustamente, ma soprattutto d'estate il riverbero ci abbronza anche con gli UVB. Quindi, a casa, mi raccomando, anche se passate un'intera giornata sotto l'ombrellone, perché non vi piace l'abbronzatura, sappiate che il sole continua comunque a fare il suo lavoro e quindi la pelle soffrirà un po' meno, forse, però comunque anche all'ombra è meglio proteggersi, idratarsi e creare questo filtro, questo schermo, insomma, per i raggi UVA soprattutto. Certo, assolutamente. L'ultima cosa sulle creme, direi, attenzione all'utilizzo, cioè proprio a come si, da quando si compra, quando si apre, a quando si decide di non usarla più. Alla data di scadenza. Alla data di scadenza. Esatto, importantissima questa cosa, perché tante persone, sento ad esempio, che dicono ma devo finire la crema dell'anno scorso. In realtà no, non utilizzatela sotto il sole. Potete utilizzarla eventualmente, la crema dell'anno scorso, come crema idratante per il corpo, ma in realtà una crema che viene aperta, dopo sei mesi, perde proprio la sua protezione solare. Quindi, attenzione, molta attenzione a questa cosa, perché appunto potete incappare in eritemi solari, abbronzatura a chiazze, che spesso capita, e comunque non fa per niente bene. Quindi magari, se avete una crema aperta dall'anno scorso, utilizzatela tranquillamente come crema idratante per il corpo, anzi sicuramente ha una buonissima idratazione, ma non utilizzatela come crema protettiva e acquistatela una nuova tutti gli anni. Ultimo consiglio, questo forse più in un'ottica, diciamo, di cura dell'ambiente, più che cura del nostro corpo, è attenzione a scegliere bene la crema, perché? Sì, attenzione a scegliere bene le creme che utilizzate per il sole, perché poi andate in acqua molto spesso, anche se non siete al mare, siete al lago, perché ci sono proprio dei prodotti, degli ingredienti. Ormai tantissime case si sono adeguate, ma ci sono proprio degli ingredienti, purtroppo, che vanno a contaminare il nostro ecosistema marino. Quindi, ad esempio, i prodotti che noi abbiamo in negozio sono proprio prodotti che sono proprio attenti a salvaguardare l'ambiente. Ecco, quindi magari spendere anche qualcosa in più, ma è l'acquisto che si fa una volta all'anno, farlo bene, sia per noi stessi, ma anche per una cura in più nei confronti dell'ambiente. Esatto. Scopriamoci con cura del nostro titolo, è una cura doppia, no? Sia per noi che per gli altri. Certo. Diciamo che più o meno sulle creme, sui solari, sull'azione dei filtri, abbiamo dato a casa un'infarinatura generale. Spero che a casa siate pronti, questa volta, ad affrontare meglio la stagione estiva, però, c'è sempre un però, ci si espone al sole a tutte le età e molto spesso, in età avanzata, o magari anche a mezz'età, non è detto, esatto, si comincia a vedere un cambiamento nel come questa abbronzatura affiora, nel come ci si abbronza, a volte non si è soddisfatti. Perché? Che cosa succede? Allora, molto spesso succede che appunto la nostra abbronzatura non è la stessa di quando avevamo 20 anni. Allora, innanzitutto la cosa fondamentale è che non ci esponiamo alla stessa maniera di quando avevamo 20 anni, in più la nostra pelle è indubbiamente cambiata. Quindi, l'invecchiamento cutaneo provoca anche lì dei problemi ai melanociti che sono chiaramente, che sono le cellule proprio responsabili della abbronzatura e quindi la melanina non è più pronta come era pronta quando eravamo più giovani. La cosa importante in questo caso è incominciare ad utilizzare prima dell'esposizione solare un mese prima o una settimana prima a seconda della nostra richiesta e utilizzare dei prodotti che vanno a stimolare la nostra abbronzatura. Questo non ci aiuta semplicemente ad avere una abbronzatura migliore e più velocemente quando poi ci esponiamo al sole ma ci aiuta anche in realtà ad evitare l'eritema solare. Quindi, insomma, è anche una protezione. È un preparatore, un preparatore proprio della pelle per fare in modo che la melanina non reagisca con l'eritema ma reagisca invece nella maniera più bella che può. In maniera graduale. Più graduale, esatto, quindi con una abbronzatura sana e bella, insomma. Ecco, credo di non sbagliare dicendo che probabilmente anche una pulizia della pelle prima di esporci al sole possa essere un buon inizio. Assolutamente. Noi infatti consigliamo sempre, se è possibile, appunto, di effettuare uno scrub che uno può fare tranquillamente a casa oppure può venire a farlo in istituto. Uno scrub completo di tutto il corpo ed eventualmente una pulizia del viso aiuta tantissimo sia a stimolare la pelle perché così rimettiamo in circolo insomma cellule nuove più fresche che si abbronzano sicuramente in maniera migliore e ci danno appunto una abbronzatura molto più fresca e molto più dorata molto più duratura. E che forse ecco dura anche più a lungo perché il brutto dell'abbronzatura è che dura poco si perde subito uno comincia a lavarsi comincia insomma a vedere che la pelle torna al colore iniziale. Esatto anche se in realtà l'abbronzatura non viene via con la doccia e neanche con i peeling eventualmente in realtà l'abbronzatura nasce da proprio il fondo della nostra pelle dove non la vediamo neanche e quindi quando facciamo le nostre docce eccetera in realtà ho i peeling corpo a casa e in realtà riaffiora proprio la bronzatura vera quindi la bronzatura più fresca diciamo. Un'altra attenzione da fare se si vuole ovviamente sono i trattamenti autoabbronzanti di cosa si tratta? Allora i trattamenti autobronzanti noi ne effettuiamo parecchi adesso soprattutto da un paio di anni a questa parte sono dei trattamenti che si fanno in tutto il corpo ed eventualmente nel viso sono trattamenti molto semplici dove si utilizzano dei prodotti che vanno proprio a stimolare la melanina e per lo stesso motivo per cui dicevo io di utilizzare appunto i prodotti a casa stimolatori di melanina e proprio perché vanno a fare in modo che poi noi quando andiamo al mare o quando ci esponiamo il sole in ogni caso la bronzatura arrivi più velocemente e più bella ma nello stesso tempo e secondo me fondamentale in quel caso lì abbiamo una bronzatura senza eritema infatti ho tantissimi clienti che vengono proprio a farlo per evitare l'eritema solare tutti gli anni quindi ancora una volta una protezione ancora una volta una protezione sì esatto e allora visto che ci avviciniamo alla conclusione di questa puntata sicuramente una domanda te la voglio fare perché il sole è bello ci mette di buon umore ci fa star bene non vediamo l'ora che sia estate molto spesso però il sole crea anche dei danni allora senza ovviamente addentrarci in quelli che sono i problemi medici ovviamente pensiamo all'estetica e le macchie solari sicuramente sono uno dei problemi più esteticamente più sgradevoli o comunque almeno per noi donne ci danno fastidio proprio certo ecco perché intanto succede e poi cosa si può fare esatto le macchie solari spesso si formano per uno sbalzo ormonale si formano per un'esposizione sbagliata al sole si formano per tanti motivi diciamo che d'estate come trattamenti estetici per le macchie si può fare poco nel senso che non si può fare tantissimo però è stato recentemente proprio studiato un prodotto che è la vitamina B3 che in realtà è un prodotto potentissimo sulla macchia è un inibitore della formazione di melanina quindi se noi applichiamo questo prodotto questa vitamina B3 chiamata anche niacinamide la applichiamo proprio sulla macchia ripetutamente con costanza tutti i giorni si vede una netta riduzione proprio della macchia solare nel corso dei giorni una riduzione e una schiaritura della macchia ecco quindi questo può essere un rimedio all'antiestetica macchia solare assolutamente però mi dicevi e correggimi se sbaglio io che magari uno pensa non mi espongo al sole rinunzo in realtà non è solo il sole ma è proprio il calore che fa riaffiorare la macchia solare assolutamente sì esatto la macchia solare non viene stimolata solo dall'esposizione solare quindi dai raggi UV ma viene stimolata anche dal calore quindi molto spesso noi sento clienti che magari dicono mi sono messa sempre la protezione tutti i giorni mi copro col cappello sto sotto l'ombrellone ma la macchia viene lo stesso la macchia in realtà come dicevo non viene stimolata solo dai raggi UV ma viene anche stimolata dal calore stesso quindi anche la stessa macchina magari dove saliamo su ed è molto calda ci può stimolare la macchia in più una cosa importantissima da dire è che in realtà la macchia solare ovvero il melanocita e quindi la cellula responsabile della melanina e quindi della nostra abbronzatura ha una memoria di tre anni per cui continuerà a riaffiorare per cui continuerà ad affiorare l'unico propria soluzione è proprio la vitamina B3 e allora anche questo prendete nota io me lo sono già segnato si sa mai voglio approfittare in chiusura di farti l'ultima domanda che secondo me chi ci ascolta a casa soprattutto le donne questo problema c'è e sono le gambe gonfie nel periodo più caldo dell'anno assolutamente che possiamo fare Silvia? le gambe gonfie sono un crucio di tutte le donne poi di noi donne lavoratrici sicuramente molto più di altre allora per le gambe gonfie si possono fare tantissimi trattamenti ci sono i trattamenti freschi che si possono fare con le bende ci sono i trattamenti drenanti c'è la pressoterapia tutti questi trattamenti che noi effettuiamo molto proprio nel periodo caldo aiutano tantissimo proprio a vaso costringere quindi in poche parole il capillare che col caldo si è dilatato noi lo riportiamo alla sua dimensione e nello stesso tempo scarichiamo quelli che sono i liquidi in eccesso che si sono andati a creare soprattutto nelle gambe gonfie di solito nelle parti più basse quindi caviglie e piedi e danno un beneficio immediato e duraturo anche per qualche giorno proprio nel farti sentire proprio con la gamba più sgonfia più leggera bene grazie Silvia perché anche questa volta siamo riusciti a parlare di tante cose soprattutto cose utili da mettere subito in campo perché ormai l'estate è arrivata grazie di essere stata con noi grazie a voi a casa di averci seguito fin qui io vi ricordo che questa puntata come tutte le puntate del programma la potrete rivedere tranquillamente sul nostro canale youtube dove appunto potete anche fare le vostre considerazioni inviarci le vostre domande perché noi comunque continueremo ad avere Silvia nostra ospite quindi poi potremo anche renderti partecipe di quelle che sono le reazioni del pubblico ed eventualmente domande interessanti per chi ci ascolta grazie Silvia e grazie ancora a casa e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti per aver guardato il video. Grazie a tutti.